Le masse saranno sempre al di sotto della media, la maggiore età si abbasserà, la barriera del sesso cadrà e la democrazia arriverà all'assurdo rimettendo la decisione intorno alle cose più grandi, ai più incapaci. Sarà la punizione del suo principio astratto dell'uguaglianza che dispensa l'ignorante di istruirsi, l'imbecille di giudicarsi, il bambino di essere uomo e il delinquente di correggersi. Il diritto pubblico fondato sull'uguaglianza andrà in pezzi a causa delle sue conseguenze, perché non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale colminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento, l'adorazione delle apparenze si paga.